E questo è ancora questo? Senti, forse non sono stata chiara. È finita! Cioè, potrei anche aver sbagliato io. Ma è finita! E non ti far vedere più, eh! Umberto, che succede? A te direi che... Cioè, è finita. Cioè, ieri ti sei sposato con la farmacista? Cioè, oggi ti ho lasciato già. È finita. Perché? Ieri sono entrato e ho chiesto un preservativo XXXXL. E mi ha sposato. Stanotte ha capito che sono babb... 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 babb...